Parletta contro Corato, atto secondo. Il primo è andato in scena dieci giorni fa sul prato del comunale Coratino. Vinsero i Biancorossi grazie a questo gol di Lorusso a metà della prima frazione e condannarono i Neroverdi alla prima sconfitta e sin qui unica della gestione Zinfolino. Domani invece le due contendenti si ritroveranno una di fronte all'altra sul sintetico del Manzichiapolin di Barletta. Nella semifinale d'andata di Coppa Italia di Lettanti la gara di ritorno si giocherà giovedì 29 novembre a Corato. Diversi gli ex della partita, tra questi c'è Giuseppe Negro, oggi attaccante e pedina insostituibile nello scacchiere barlettano. Nella seconda parte della passata stagione invece protagonista proprio con la maglia dei Coratini. Sicuramente sarà una partita diversa da quella del campionato perché un'andata di ritorno sono 180 minuti e noi dobbiamo essere bravi a saper gestire le due partite. Sicuramente troveremo una squadra molto arrabbiata perché una settimana fa siamo andati lì al campo di Corato che è difficile e abbiamo portato punteggio pieno a casa. Noi da parte nostra, e lo stiamo dimostrando non con le chiacchiere ma con i fatti, stiamo sul pezzo anche perché non possiamo avere il lusso di mollare un attimo. Le due squadre arrivano all'appuntamento di domani con il morale differente. Il Corato non riesce proprio ad imprimere una spallata alla propria avventura. Era partita la scorsa estate per provare a lottare per la promozione diretta insieme a Casarano e Brindisi ed invece si ritrova staccatissima dalle prime due di eccellenza e in forte ritardo anche dalle squadre che lottano per i play-off. La Coppa Italia di Lettanti a questo punto può diventare la priorità per la squadra di Gino Zinfolino. Il Barletta invece dopo un avvio di stagioni altalenanti ha collezionato domenica scorsa battendo in casa Lothranto il quinto risultato utile consecutivo e si è sistemato tra le grandi del girone. Io come ho sempre detto e non mi nascondo, noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Domani già penseremo alla partita di Coppa e poi dopo la Coppa penseremo alla partita di Gallipoli. Partita dopo partita tireremo il massimo delle nostre forze. Barletta contro Corato dunque. L'andata delle semifinali si giocherà domani al Manzichia Polen a partire dalle ore 14.30 rinviata a mercoledì 5 dicembre invece la prima sfida dell'altra semifinale, quella tra Forti Saltamura e Casarano.